La domanda è la seguente, ed è un pensiero importante, cioè che ci sta veramente tormentando, se viene a tormentarci per tutto la stagione, mi ho zoomato in venire per la stagione, ma secondo te, secondo lui, ma secondo te, ma secondo te, se lo chiede anche Zichichi, insieme a Cappello, l'ultimo simbolo, ma secondo te, ma secondo te, se lo chiede anche Zichichi, no 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 Zichichi, ma come mi vedono dalle nostre parti, un sumento di dono d'invento, dai, dai un parere, un parere scientifico, ma gli elementi, gli elementi per valutare, a me rispondono degli atti, degli incartamenti, qualcosa, da qui nasce il tormento, no, volevo sapere se c'erano degli elementi a virgolizione per valutare il tormento, ma avete degli atti, delle cose che io posso leggere, non so, che è un cappello, ma così, perché se qui nasce, perché se no è così, siamo nella sfera delle ila, quando? quando? è bisogno di avere degli elementi, allora, analizziamo il problema analizziamo il problema analizziamo il problema da cosa parte la domanda? finisce con l'anima realtà andiamo in maniera induttiva, vediamo la comprensione allora, io mi chiedo, questa ragazza io mi chiedo, questa ragazza capuera, capuera, capuera e basta? è quindi niente e quindi, diciamo, avrà una vita privata non diamo il fidanzamento, secondo te, come lo mantengo, tipo? andiamo avanti sì, sì quindi c'è un problema il dubbio è se abbia o meno una vita privata esatto, esatto quindi poi, era terra no, sto chiedendo ma mi chiede, non mi chiede scusami perché mi chiede, non mi chiede scusami perché tu chiedete scusami perché tu chiedete la liberatoria per questo filmato è assolutamente, tu filmate su tutta la città che devi fare, certo? perché sai che io gli do un minimo di discernment a te? nirvana? nirvana? come si è? la liberatoria? no, allora se non la dai tu, io l'ho messo per scritto ma chiamano le presuppate fai quello che ho a vedere sempre la televisione che appare non posso perché non li pensiamo no, no, no io dico il sned è per la televisione ma non siamo prestati mi ricordo una gambà no, io ho una gambà no, no, no perché ti ho allusiato io te l'ho organizzato un tempo io, perché ti amo e quindi, guarda no, no, devo decidere io io mi sposto a tutta a tutta nella mia vita insieme alla vita un po meglio passare meglio è rimasta con le mani così basita basta grazie 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 grazie